Toulusso Costruzioni, in via Veneto 25 a Cordenons, telefono 0434 58 32 12 Amici di Palazzo News, buonasera. Siamo in questa sede che è al comune di Porrenone dove abbiamo appena assistito alla cerimonia della premiazione di atleta sportivo. Due sono gli atleti della polisportiva premiati, Agostini, Angelo e Marvin Bedel. Siamo qui in compagnia anche del nostro istruttore di kickboxing che ci andrà appunto a presentare questa specialità della polisportiva Villanova. Allora, la kickboxing è l'arte marziale del futuro, ormai già molto in voga, comunque è un'arte marziale, è anche uno sport da combattimento rivolto ai giovani, rivolto a tutte le classi di persone, anche dal giovane, giovanissimo a ragazzo e anche di una certa età. Il concetto è che è molto molto importante e che riesce a mettere in forma il fisico e anche lo spirito. È molto divertente ed è alla portata di tutti. La kickboxing ha tre anni di vita presso appunto la nostra sede del Palazzen e magari ci dici quante volte vi allenati, gli orari, perché mi sembra che sono quasi 20 ormai i praticanti di questa nostra specialità. Sì, allora, gli orari sono il martedì e il giovedì dall'8.30 fino alle 9.30-10 circa e siamo un bel gruppo di ragazzi, già una ventina di persone, ragazzi e ragazze ed è bene insomma, tutti quanti ci si diverte. Quindi lo prendiamo come un invito ormai a venire, però almeno a provare questa attività sportiva. Ed ora passiamo al Città di Trieste, domenica una ventina di ragazzi della Polesportiva di Villanova si sono ben presentati e hanno ottenuto dei ottimi risultati. Il primo posto che ricordo è il possemato Paolo e poi vi parleremo anche, faremo un'intervista anche ai ragazzi che appunto oggi hanno preso la borsa di studio. Allora, ho il piacere di presentarvi i due premiati Bedell Marvin e Agostini Angelo. Una piccola parentesi, una grande soddisfazione per me e per la Polesportiva Villanova perché sin dagli anni, la metà degli anni Ottanta, aveva costituito in palestra il Palazzen, che ancora non esisteva ma nella vecchia palestra di Judo, il dopo scuola scolastico con il professor Manfrin, Bolognese in casetta e quindi questo è un lavoro che noi avevamo già intuito negli anni Ottanta e che adesso si va a concretizzare con questo premio per i due nostri ragazzi. Chiediamo a Marvin qual è la sua impressione di questa bella festa. Sono felice, emozionato. Eh? Emozionato. Emozionato. E Angelo, cosa ci racconta? Ma sono molto contento perché non me l'aspettavo e mi sento di ringraziare tutti quanti, la mia famiglia, Gianni che è mio tecnico, Dudu, tutta la società, tutti i miei compagni e come dice Dudu, pago la pizza a tutti. Vabbè, sappiamo cosa fare questa sera. Buonasera a tutti gli amici di Palazzenews. Tolusso Costruzioni, in via Veneto 25 a Cordenons, telefono 0434 58 32 12. EggiI. Vabbè, chiede.